Ci siamo quasi Si aprono le gabbie Partiti i cavalli della quarta corsa del pomeriggio Una delle seconde trisse di questa giornata Di nuovo la distanza De 1900 metri, pista piccola derby Tutto questo per dire che Fanno partenza in molti Ancora da stabilire che sia il vero leader naturale della competizione Alla fine emerge dal gruppo Mitica Magic Con il peso basso Anche Penango accetta partenza Stessa cosa fa Paciocone Poi Mister Janky La quinta posizione è per Taormina La sesta è per Big Gina Poi tra i cavalli Pasquino Con la giubba arancio troviamo invece Blue Golan Che precede la giubba bianca Palle rosse di Lethal Blond First Fantasy e Travedona Questo l'ordine dei partecipanti Quando i cavalli hanno percorso più di 500 metri di gara Nessuna variazione in questa fase Sempre Mitica Magic A dettare il ritmo Galoppando su una fascia un pochino più centrale Paciocone che adesso si è sistemato nella seconda posizione A precedere il grigio Penango All'interno i due con la giubba nera sono Mister Janky e Big Gina In mezzo ai cavalli ci sono sempre i due Favorito e contro favorito Lethal Blond e Pasquino Alle cui spalle galoppano anche Blue Golan Poi Travedona First Fantasy a completare il quadro dei partecipanti Siamo già velocemente all'imbocco della dirittura d'arrivo Mitica Magic Senza fronzoli e sempre decisa leader Paciocone che si è sistemato subito alle sue spalle Lo tallona da vicino Cercano anche di allungare dal centro la pista Tanto Lethal Blond quanto Penango Prova a farsi spazio tra i cavalli Taormina Anche Pasquino è della partita ma deve recuperare molte lunghezze In tutto questo Paciocone si sta involando Siamo al paletto dei 200 All'esterno di tutti c'è Lethal Blond Che adesso scatta e perviene sulla prima linea Lethal Blond che va all'attacco di Paciocone I due ingaggiano bel duello perché Paciocone è ripartito Lethal Blond che ci riprova Paciocone di dentro Lethal Blond di fuori Paciocone Alla fine resiste Sull'affondo di Lethal Blond per il terzo posto Mitica Magic Vince così Paciocone Che ottiene la seconda affermazione in carriera Aveva in sella Alessio Satta Per il training di Ciro Luong Colori della scuderia Gemar Vince numero 10 dello schieramento Re confronti del 6 E poi per il terzo ancora in quota numero 9 Mitica Magic Bel duello Lethal Blond ha speso per andare a prendere Paciocone Il quale tuttavia si era conservato qualcosa Che poi ha fatto valere Ripartendo di slancio 10 6 E poi 9 Dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della seconda trisse Vediamo un po' Se da queste immagini riusciamo ad avere il quadro un pochino più chiaro I primi due sono passati Vediamo un po' il terzo Sì Numero 9 Mitica Magic Da Capanelle per la quarta è tutto Aggiung... Abbiamo un po' il terzo Una volta